Ciao, come vi chiamate? Sono Erika, Paola, e cosa vi occupate nella vita? Agente immobiliare. Avete appena finito il Power Gapway, cosa ne pensate? E' stato un corso molto interessante, Paolo è stato bravissimo, ha trasmesso tanta energia e siamo pronti. L'ho trovato veramente, veramente utile, io avevo già fatto un altro corso che non aveva questo taglio pratico, che invece ho apprezzato tantissimo, perché adesso mi sento molto sicura e molto più in grado, Paolo è bravissimo anche a spiegare. Voglio ringraziare Paolo, perché veramente mi sono molto divertita, ho spiegato le teorie che ha spiegato prima con il primo corso, veramente è una grande persona, grazie Paolo. Quindi lo consigliereste ad altri? Certo. Certo. Certo.